L'indirizzo fa marcobertolotto.provincia.savona.it. Il diretto interessato dice di lavorarci tutti i giorni. Il titolo recita Speak About, questo il nuovo blog del presidente della provincia di Savona nato con un preciso intento. Sentivo questa esigenza qua, la sentivo perché spesso le notizie che vengono date sono le notizie dei giornali, che sono più delle volte le notizie che fanno cronaca, cioè qualcosa che fa notizia. Io mi rendo conto che non si può creare una notizia dove non c'è una notizia, però il governo è anche il governo delle cose quotidiane. Il filtro sarà soltanto quello istituzionale, la collaborazione invece degli studenti dell'Università di Savona. Trovare un contatto e un dialogo più diretto con la gente è lo scopo del blog, uno strumento che, dice Bertolotto, è stato creato anche per rispondere a segnalazioni, critiche e proteste. Noi siamo pronti a ricevere anche tutte le critiche del caso, anzi.